Sono stato l'ultimo della famiglia a vedere mio zio, la sua compagna e mio cugino. Una serata mi avevano chiesto di portare dei medicinali al bambino perché non si sentiva tanto bene e ho visto mio zio molto sereno perché comunque era una persona che non aveva paura del pericolo. Invece Grazie era un po' più preoccupata, il bambino vedeva negli occhi un po' di preoccupazione anche nel bambino perché ovviamente essendo piccolo aveva preso questa preoccupazione dalla mamma. Gli ho salutati e ci siamo congedati così. La mattina seguente io stavo dormendo con tutta la mia famiglia in casa e sono stato svegliato dal boato della frana, mi ricordo che era intorno alle 8 e mezza, 9 e meno 20 del mattino. Ho sentito il suono della sirena e questa sirena era proprio posta sulla casa di mio zio. Si tratta di un 10 secondi di suono e poi non ho più sentito niente perché ho poi scoperto a posteriori che era stata portata via la casa di mio zio, su cui c'era la sirena, era stata portata via in quel momento dalla frana. ricordo ancora l'odore della terra, dell'umidità, ricordo proprio ogni particolare ed è stata un'esperienza ovviamente piuttosto scioccante. Noi abitiamo a un centinaio di metri da quella che era la casa di mio zio. La cosa più impressionante di quel periodo che io posso ricordare è ovviamente la disattenzione con la quale è stata affrontata questa emergenza nei giorni precedenti. È chiaro che era una cosa che magari non poteva essere prevista, però anche da parte delle autorità soprattutto sia comunali che magari regionali, io avrei preteso da ragazzo giovane comunque un'attenzione un po' più particolare, almeno la sera quando stavo rientrando a casa non avevo visto nessuno sul torrente, c'era stata un po' di disattenzione diciamo. Ovviamente non voglio dare le colpe a nessuno, io dico solo, racconto solo quella che è stata la mia esperienza. Adesso se posso fare una richiesta per il periodo attuale sarebbe quella, visto che c'è anche un'amministrazione nuova di recente elezione e che si sta presentando molto attiva nell'attenzione alla comunità, sarebbe quella di cercare di pulire un po' di più e comunque di tenere sotto controllo quello che è tutto l'alveo del torrente a partire dalla becca di Nona fino al paese di Pollen, perché comunque è vero che siamo più sicuri perché comunque i lavori poi a posteriori sono stati fatti, questo è da riconoscere, però porre sempre costante attenzione, perché comunque quel torrente aveva già creato problemi storicamente un centinaio, un centocinquant'anni prima, aveva distrutto completamente il paese che era a Valle. E quindi questa è la richiesta che io faccio a cuore aperto. Di quei giorni noi l'abbiamo saputo in televisione, perché noi poi quella domenica mattina siamo scappati ad Aosta da nostri parenti, perché comunque eravamo abbastanza scioccati ovviamente, e abbiamo appreso della morte di mio zio solo dai telegiornali e dalle televisioni, perché poi io sono ritornato il giorno dopo e ovviamente c'era il blocco delle forze dell'ordine nella parte bassa del paese e io sono riuscito a risalire tutto il torrente, tutto quello che aveva portato via il torrente ed è stata un'immagine impressionante, perché comunque nel momento in cui, nel luogo in cui stavano cercando e stavano facendo gli scavi per trovare mio zio, la sua compagna e il mio nipotino, che comunque hanno ritrovato qualche ora dopo, stavo appunto sul luogo dove stavano scavando e c'era l'altro mio zio, fratello di Ugo, che mi fa guardati dietro, e io mi sono voltato e dove c'erano le case in precedenza c'era solo più un vuoto che arrivava fino alla cascata del torrente, quindi è stata un'immagine piuttosto, che ricorderò credo per sempre. Vorrei ringraziare, se me lo permetti, tutti i soccorsi e tutte le persone che in quei giorni sono state a lavorare per noi, da personale che è venuto dalla regione ovviamente, personale che è venuto, volontari che sono venuti da altre regioni e dalla regione straniera, perché c'è stato anche un gruppetto molto organizzato di francesi che ci ha aiutati, quindi tutte le persone che ci sono state vicine in quei momenti sicuramente sono da ringraziare e da portare nel cuore.